Il tempo è stimato tra i 7 e i 10 giorni lavorativi. Tanto dovranno attendere 220 famiglie bitontine per ricevere sul proprio conto corrente il contributo per l'affitto dell'anno 2018, che quest'anno è anticipato direttamente dal Comune in attesa della liquidazione da parte della regione. Si tratta di tutti quei beneficiari, ed è quasi la metà su un totale di 468 nuclei familiari, che rispondendo all'appello di Palazzo Gentile hanno già comunicato le coordinate per avere la somma aspettante, che varia dai 250 ai 650 euro. È un'idea quella a pensare da Palazzo Gentile per impedire ai soggetti in questione di attendere i tempi molto lunghi del calendario dei pagamenti incontanti allo sportello della banca tesoriera e per consentire alle famiglie di avere un altro po' di liquidità in tempi celeri e utili in questi momenti così difficili. Per chi non avesse ancora provveduto, ricordiamo che è ancora possibile comunicare le coordinate per il beneficio, indicando semplicemente le generalità del beneficio del contributo e l'Iban del controcorrente, di cui è titolare o contitolare. C'è anche la possibilità di ottenere l'accredito anche su carta prepagata dotata di codice IBAN. È sempre in tema di agevolazioni, ma questa volta per le imprese, la città metropolitana ha deciso di prorogare al 30 giugno la scadenza per il versamento del canone, per il suolo pubblico, il COSAP per intenderci, ma anche per quello non riconnitorio del corrispettivo sulla pubblicità e dei diritti di concessione e autorizzazione.